Una bellissima giornata, auguriamo a voi carissime telespettatrici e carissimi telespettatori che anche questa mattina, lunedì 15 aprile, siete sintonizzati sul nostro canale e sulla nostra pagina Facebook per seguire in diretta. Siamo live, sono le 7.20, le notizie quotidiane che la nostra edicola vi propone giornalmente. Un giorno d'estate, effettivamente, quello che abbiamo vissuto ieri, ma anche quello che andremo a vivere oggi. Considerate le temperature che il nostro registra Andrea Marcelli ci sta proponendo, guardate che gradi riusciremo a raggiungere in giornata, addirittura la massima di 26,8 gradi intorno alle ore 14, quindi uno splendido anticipo di giornata. Vediamo anche la situazione meteorologica, ovviamente tempo soleggiato, con cielo spesso solcato da nubi alte, talora compatte, le massime le abbiamo viste, i venti sulle coste medio da sud-sud-ovest e sull'interno invece medio da sud-ovest. Questo è il Corriere Adriatico che ci propone appunto la lettura meteorologica. Vediamo anche la webcam che ci propone la spiaggia, l'arenile di Baia Flaminia, dal grattacielo dove è posta la webcam, ovvero il Baia Flaminia Resort e come vedete una giornata di sole che ci aspetta da vivere per chi può ovviamente trascorrerla sull'arenile. Veniamo alle notizie di questo fine settimana, condensate nelle prime pagine del Corriere Adriatico e del resto del Carlino Marche. Partiamo dal Corriere Adriatico, come dicevo spiagge prese d'assalto, non poteva essere altrimenti, una metà d'aprile con temperature fuori dalla norma, a mia memoria non ricordo un caldo africano così anticipato nel corso appunto della mia esistenza, temperature e gente al mare come in pieno giugno, dice il Corriere Adriatico. Da Baia Flaminia a Sottomonte un pienone di bagnanti che evidentemente hanno approfittato subito di questo bel tempo. Nuova stagione, vecchi problemi, al campo di Marte subito caos a sosta tra auto, scooter e camper. La notizia del giorno però è il ballottaggio in casa centrosinistra, le primarie di Fano si sono concluse, la scorsa settimana i due candidati hanno appunto portato i propri elettori ad un bis alle proprie urne nella giornata di ieri e pensate per soli tre voti il vice sindaco del PD Cristian Fanesi si impone su Samuele Mascarin e quindi per tre voti come intitola la copertina del Corriere Adriatico sarà lui a sfidare Luca Serfilippi, il candidato della Lega del centrodestra alle amministrative di Fano. Nei tre box sotto la copertina i medici della regione Marche che sollecitano la AST a nominare velocemente il nuovo direttore generale dopo il pensionamento della Storti. A Piobbico cade e si infortunia una sessantenne lungo un sentiero, è stato decisivo l'intervento prima del 118 e poi dei vigili del fuoco. E a Sant'Angelo invado il mistero, lo vedremo più avanti, della villetta disabitata ora posta sotto sequestro dai carabinieri, vedremo appunto cosa si nasconde sotto questo mistero che ha incuriosito un po' tutta la popolazione del borgo ducale. Per quanto riguarda lo sport invece buone notizie, la Vispesaro ieri nel posticipo serale si impone sul Perugia e riaccende le fiammelle di Speranza per evitare i play-out, mentre l'impresa della VL contro Pistoia fa sì che il concomitante sconfitta di Treviso ponga i Biancorossi a meno due. Lasciamo per il momento il Corriere Adriatico, andiamo sul Carlino Marche, sull'edizione light del lunedì, anche qui le primarie a Fano, tre voti decisivi, i fanesi batte Mascarin e poi la cittadella della salute sarà demolita, malati a rischio, questo è l'appello di Biancani e i vandalismi a Parco Scarpellini, un'altra notte tragica, quella vissuta appunto nel Parco Pesarese, reti di velte, la biblioteca anche danneggiata, reti tagliate come dicevamo, insomma belloni su tutte le furie. Andiamo subito a leggere questo articolo, panchine rotte come vedete, la piccola biblioteca addirittura di velta, tagliata la rete di ricensione per poter entrare e danneggiare quello che capitava a tiro. Ancora delle teste senza morpopio, Belloni ieri ha tuonato in maniera anche decisa e ferma su questa situazione, quasi volenteroso di prendere veramente dei provvedimenti molto seri nei confronti di questi piccoli responsabili. È un luogo molto frequentato da gente, famiglie, bambini, malgrado ciò gli autori dei danni della notte scorsa si sentono impuniti. Ora però gli posso annunciare che le forze dell'ordine prenderanno nota della targa di ogni scooter e motorino che si aggirerà vicino al Parco, quindi già individuati chi potrebbe essere gli autori di queste malefatte. Quando i genitori saranno avvertiti da polizia e carabinieri che il proprio figlio ha combinato danni e vandalismi o se ne va in giro con scooter truccati o non regolari, probabilmente si renderanno conto di cosa stia facendo il proprio figlio perché finora sembra proprio che non se ne stanno accorgendo. Non esiteremo a presentare denunce penali se le telecamere ci permetteranno di individuare i responsabili perché la misura della tolleranza è stata superata. Escursionista cade e si fa male fra i boschi di Piobbico, salvata, una brutta avventura per la sessantenne pesarese caduta nei pressi di case Bacciardi, nelle foreste intorno a Piobbico. È stato avvertito il 118, nonché una squadra dei vigili del fuoco di Cagli che hanno trovato la donna con una distorsione di una caviglia, uno slogamento di una spalla. È stata trasferita all'ospedale di Urbino sul posto anche il soccorso alpino provinciale. A rischio oltre 100 posti, Biancani, Cittadella della Salute ancora senza sede alternativa. Si tratta della RSA Tomasello, 27 posti letto, le due comunità protette maschile e femminile da 20 posti letto ciascuna, la struttura residenziale e riabilitativa da 18 posti letto, il centro diurno, il gabbiano, da 16 posti. Un totale di 100 posti letto, l'85% dei quali a carattere di residenziale, da riallocare in strutture che abbiano specifiche caratteristiche legate alla natura dei servizi. Secondo Biancani la regione tentenna, prende tempo, da oltre tre anni ribadisco che a tutto questo caos esisteva un'alternativa, dice appunto il candidato a sindaco del centro-sinistra, ed era il recupero dell'ex manicomio San Benedetto che vedete appunto nella fotografia. Invece la scelta della regione di cercare spazi in affitto, anche sparsi nel territorio, renderà probabile che la città di Pesaro perda 100 posti letto e veda penalizzata la gran parte dell'utenza di questi servizi che è pesarese. Le prove d'estate, quindi pienone sulle spiagge, tuffi e tintarella, fari d'oro per i ristoranti aperti. La gente, giovani e meno giovani, ieri hanno tirato fuori il costume, come vedete anche dalla fotografia, si sono riversati sulla Renile, a Levante, a Ponente, ma anche sotto Monte, e murati i ristoranti nei pressi della Palla, presso il Moletto, ma anche quelli sotto sotto Monte, ed anche soddisfazione per i diversi gruppi arrivati in città per la capitale della cultura, foto davanti alla fontana della piazza, al Duomo, a Rocca Costanza, musei civici, Casa Rossini. Ma c'è un però, perché gli albergatori non hanno commentato questi dati, non parlano, anche perché è oggi in programma una riunione per concordare una linea comune di comunicazione, ma stando ad alcuni operatori l'occhio inganna, perché molte delle persone che si sono viste in giro per la zona mare sono, nella maggioranza dei casi, pesaresi che si sono scesi verso i viali per la bella giornata di sole. Insomma, l'occupazione alberghiera non ha dato la stessa cartolina che ha proposto Viale Trieste, poi vedremo dai dati che ci verranno consegnati a fine stagione. Torna a brillare la madonnina del Ponte dei Cappuccini, lo vedete, chi è passato nelle scorse serate se ne è potuto ovviamente subito accorgere, lo ricordiamo, i danni del terremoto del 2022 avevano colpito anche questa statua, che però, grazie alla sinergia che ha viste protagonisti il Lions Club della Rovere e tecnoimpianti di Valle Foglia, nei giorni scorsi sono stati installati sul borgo del Cavalca Ferrovia Giorgio De Sabata i riflettori che illumineranno la statua, rendendola quel simbolo di accoglienza e speranza che dava il benvenuto anche nella notte a tutti coloro che transitano sul Cavalca Ferrovia. E la notizia appunto del giorno è rappresentata dalle primarie del centro-sinistra a Fano, vince Fanesi al fotofinish, Mascarin cede per tre voti ai seggi 2022 elettori e poi si ritrovano tutti in piazza abbracciandosi per la bella prova democratica, come vedete nella foto, presenti anche gli altri due, tra virgolette, corridori alle primarie, Etienne Lucarelli e Cora Fattori. 1007-1004 la spuntata appunto Cristian Fanesi, che lo ricordiamo, nella prima tornata era stato sconfitto con 47 voti, quindi nel ballottaggio ha recuperato il risultato. Sembra che abbia prevalso ovunque, ad eccezione del Poderino e del centro-mare Roccaforti di Mascarin. È stato rifatto anche un conteggio, vista l'eseguità dei voti con i quali Fanesi ha battuto Mascarin, poi nella seconda conta sono stati appunto riconfermati. Quindi adesso 8-9 giugno sarà lui a sfidare il candidato del centro-destra, Luca Serfilippi, ma bisognerà capire cosa faranno i progressisti e il candidato Stefano Marcheggiani. Fanesi aveva promesso che la prima telefonata sarebbe stata appunto in caso di vittoria a Marcheggiani, ma il quale comunque non aveva dimostrato grandi disponibilità al dialogo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. il candidato sindaco esprime la sua soddisfazione nell'articolo a Latere, è una vittoria collettiva, faccio i complimenti comunque a Mascarin per l'impegno e la lealtà con cui ha condotto la sfida, un abbraccio anche a Lucarelli e Fattori che hanno partecipato al primo turno. Adesso il nuovo traguardo è quello di battere Serfilippi del centro-destra. I socialisti Maruccia e Pucci chiedono impegni per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, se ne è parlato nel corso di un incontro sullo sport, evidenziando che non c'è un sufficiente impegno nell'agenda dell'assessore Cristian Fanesi. Che risposte si dovranno dare alla Virtus Pallavolo Fano che grazie a tanti investimenti e all'impegno dei propri atleti è ormai prossima la promozione in A2. Il palasport di Fano, l'Allende, lo vediamo nella foto, è ormai vecchio e ha requisiti di capienza non sufficienti per il campionato di A2. Per cui probabilmente la Pallavolo Fanese dovrà spostarsi a Pesaro sia per allenarsi che per disputare il proprio campionato. Lasciamo il Carlino Marche, andiamo sul Corriere Adriatico, delle prove di estate ne abbiamo parlato prima. Ieri parlavamo anche del pienone in centro, ma pienone anche per il mercatino in Piazzale della Libertà, si intitolava Sapori di Primavera, piante, fiori, artigianato e handmade, una delizia di colori con l'aggiunta delle cornie gastronomiche di varie regioni. E si ripropone il problema dell'accessibilità negli stabilimenti balneari anche per chi è disabile. Per il sindaco Ricci e il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, gli stati generali dell'accessibilità svoltisi sabato all'auditorium Scavolini sono stati una sfida per essere più competitivi a livello di accoglienza. E fra gli interventi primari c'è l'accessibilità ai luoghi balneari e alle spiagge, anche perché a Pesaro, per chi è disabile, non se ne trovano tanti, Bagnitino, Baronciani, Primavera, Gioa Marena e ci fermiamo qui. Per rendere quindi fruibili a calunque disabili anche le nostre spiagge, serve che il Comune metta in atto, in accordi con i privati, un intervento strutturale che vada oltre la semplice passerella o l'illineazione degli scalini per accedere all'arenile. Ci vogliono subestazioni anche per disabili sensoriali, altrimenti la passerella da sola servirebbe solo per arrivare con la carrozzina fino alla battigia e scattare un selfie. Oggi in programma dalle 9 alle 13.30 nella sala del Consiglio Comunale il workshop, il nuovo codice degli appalti, novità e criticità inerenti l'anno 2024 sul territorio regionale. Una tematica che verrà trattata dagli esperti del PNRR e che siamo felici di accogliere nella sede municipale, dice Riccardo Pozzi, l'assessore al fare, coinvolgendo tecnici e professionisti del Comune impegnati nei tanti cantieri attivati dall'amministrazione. L'Ast ha aperti dossier importanti, per il nuovo direttore generale non si perda tempo, la notizia del pensionamento di Nadia Storti manda in fibrillazione. I medici dell'associazione ANAO, ovvero Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri, che lanciano un appello alla regione Marchia affinché non perda tempo e designi prima possibile il nuovo direttore generale. Viviamo una fase cruciale per il presente e il futuro della sanità pubblica nella provincia di Pesaro, con tanti dossier aperti, importanti per i pazienti e per il personale. Auspichiamo pertanto una pronta designazione del nuovo direttore generale, alla quale diamo fin da ora la piena disponibilità alla collaborazione, auspicando un confronto puntuale e continuo, perché la voce dei medici e dirigenti sanitari venga ascoltata, prima che le fondamentali decisioni in termini di programmazione e gestione dell'attività vengano assunte nell'interesse dei pazienti. Comincia fra pochi giorni, venerdì, la pedalata di Matteo Ricci fino a Roma, lo aveva annunciato nella cena dei 1006 a Campanara, venerdì, parte da Fano dall'arco d'Augusto il venerdì 19 aprile alle nove, arriverà a Roma il 23, percorrerà la via Flaminia, passando per Fossombrone, Cantiano, Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto, Terni, Narni, Civita Castellana e Riano. Una pedalata, diciamo così, contro l'autonomia differenziata per ricucire l'Italia e lanciare un messaggio di pace. Conferma la propria disponibilità a candidarsi all'elezione europea, ma la decisione toccherà alla segretaria Schlein. Chi volesse, perché è aperta a tutti, chi vuole partecipare alla passeggiata, prenda adesso una penna, io vi ho detto i numeri di telefono da contattare per poter partecipare con Matteo Ricci almeno ad una tappa, se non a tutte, 335-101-71-19 oppure 347-9401-4149. Poi chiaramente andando a comprare il giornale potrete ritrovare questi numeri di telefono. Parla il candidato del centrodestra, Lanzi, Pungola Biancani, sulle case popolari. Numeri fuori contesto, dice una polemica inutile, quella innescata sui 41 alloggi sfitti in attesa di interventi di sistemazione. Un pessimo segnale per chi si candida a sindaco di una città con lo spirito di un consigliere di opposizione pronto solo a puntare il dito contro la regione con cui, attenzione, dovrà, in caso di vittoria, dialogare per condividere le strategie. Lanzi dice che nel 2020, al termine della giunta Ceriscioli, gli alloggi sfitti erano 55, oggi sono 41, quindi 14 meno, e sono stati recuperati 33 alloggi. La regione ha approvato una proposta di reinvestimento dei proventi delle alienazioni, che prevede la destinazione di un milione e mezzo di euro, al ripristito nei due terzi circa degli alloggi di proprietà era, pattualmente sfitti, tra i quali ben 15 dei 41 di Pesaro. Il Comune ha il suo co-working nei locali aperti a Trebbiantico, un bellissimo spazio creativo e di lavoro che sostiene l'attività di giovani professionisti. La integra col contesto sociale in cui è inserito il borgo di Trebbiantico. È una struttura di 151 metri quadri, tramite bando pubblico, è stata assegnata al canode di 600 euro al mese a due professionisti che gestiranno gli spazi di co-working per sei anni, ospitando anche dottorandi tirocinanti e stegisti a rotazione. L'attività si intrescerà con la vita sociale del quartiere Tre Colline e Castelli, come previsto dai requisiti del Bando del Comune, che ha indicato di attivare iniziative che favoriscano la coesione sociale tra gli abitanti e che possano coinvolgere realtà scolastiche ed accademiche o promuovere stage e tirocini per studenti che possano operare nello sviluppo del quartiere. Veniamo alla cronaca di Urbino. Sequestrata a una villetta disabitata appartiene a un sacerdote vadese. Questo è il mistero che si infittisce sulla via Piobbichese, un cancello di entrata in questa villetta in cui compare, come vedete nella foto a destra, l'informazione, la notifica dell'immobile sottoposto a sequestro penale. La struttura appartiene a Don Roberto Pellizzari, che vediamo nella fotografia, un missionario vadese che però non risulta coinvolto nell'indagine, tanto che sta prestando servizio presso la missione cattolica italiana La Chaux-de-Fonds all'Eloclo, una cittadina in Svizzera, nel cantone Neuchâtel. La popolazione di Sant'Angelo ovviamente si è incuriosita per questo cartello posto all'ingresso della villetta, tant'è che addirittura ieri il Comune ha dovuto sui social precisare che non è avvenuto alcun omicidio, nessun suicidio, non è stato rinvenuto alcun cadavere, le forze dell'ordine viste in paese erano presenti per svolgere la propria attività istituzionale. I sigilli sulla villetta posti dagli agenti rimandano a ulteriori verifiche, sempre richieste dalla procura di Urbino. Chiaramente l'accesso è stato vietato per non inquinare le eventuali prove. Vedremo nei prossimi giorni se il mistero si infittirà oppure si schiarirà. Breast unit a Urbino interviene Federico Scaramucci, il candidato del centro-sinistra, il quale rinfocola le polemiche sull'utilizzo della breast unit nell'ospedale di Urbino. Dire che opera ed è in continua attività a pieno regime è in contraddizione con quanto il centro-destra afferma, dicendo che la dedizione dell'AST sta lavorando affinché la senologia operi anche nella sede di Urbino al massimo delle sue potenzialità. In realtà, dice Scaramucci, la struttura di Urbino è sottoutilizzata e Gambini e Foschi stanno mentendo da dieci anni in quanto avrebbero potuto e dovuto battersi in ben altro modo per non trovarsi oggi in questa situazione. Cronaca di Fano. Partono i piani delle asfaltature, come vedete, Brunori aggiorna la tabella di marcia. Oggi lavori in via Roma, è interessato il tratto tra le rotatorie Brigata Messina e Interquartieri. Poi, nell'articolo di Massimo Foghetti, la descrizione precisa di tutte le strade di Fano che saranno interessate alle asfaltature. Cominciano anche lavori di sfalcio. Ovviamente arriva la primavera, l'erba cresce, non cresce lentamente, ma cresce tanto rapida che nel giro di una settimana occorre rifalciare l'area verde che era stata appena sottoposta a questo tipo di operazione. La soluzione assomiglia a un baratto. Manifestazione di interesse per un intervento gratuito in cambio dell'utilizzo dell'erba. E anche qui, nell'articolo di Amaduzzi, c'è la descrizione dettagliata di tutte le aree verdi interessate a questa operazione. E oggi comincia la settimana da capitale di Serra Sant'Ambondio, alle pendici del Catria, al confine tra Marche e Umbria, a questo splendido villaggio che mette in piedi un programma partecipato, coinvolgente ed eclettico, di una comunità che si è preparata al meglio per raccontarsi tra natura e cultura. Cinque frazioni fino al 21 aprile, cinque frazioni per cinque giorni, un evento in ognuna delle cinque zone che compongono il comune. Fulcro del programma Il gioiello di Serra Sant'Ambondio, ovvero Fonte Avellana, lo ricordiamo, magnificata da Dante nel canto decimo del Paradiso. E anche qui invito a acquistare il Corriere Adriatico per leggere e documentarsi sulla settimana da capitale di Serra Sant'Ambondio. E intanto il borgo medievale di Gradara si è presentato in anteprima a Londra al Festival Europeo del War Game Storico e nasce questo prototipo appunto presentato in anteprima, si gioca in scala, veramente un bel tuffo nel XV secolo, un gioiello di tecnica artigianato, meticolosa ricerca storica, per la realizzazione del quale il comune ha coinvolto esperti, specialisti e istituti prestigiosi, ovvero l'Università di Edimburgo, History Game Lab, l'Università di Urbino, Gradara Innova, Oshiro Model Terrain, Master Stroke Games, Il Tempo della Spada, Alan e Thomas, D'Amico e Joe Gra. Era questa l'ultima notizia di cronaca, adesso passiamo allo sport, ma prima di passare allo sport un grazie a tutti coloro che anche questa mattina si sono collegati tramite la nostra pagina Facebook, Gianluca Tacconi che ci augura ottima VLV, proprio dall'assist per il notiziario sportivo Ornella Simoncini, dalla celletta Anna Radaini, Fiorella Peri, Daniele Santini, ieri reduce dalla trasverta Ammarassi per vedere la sua Sampdoria, Lorenzo Tagliaferri, Luca Pandolfi, Simona Barboni, Simone Ioni, Ornella Simoncini, Speriamo che a giugno non calano le temperature, è vero anche questo, speriamo bene, ricordiamoci l'anno scorso un maggio disastroso, da dimenticare veramente, Francesca Falcioni, poi Roberto Tommasoli, Forza VLVs teniamo botta, infatti adesso le notizie di Roberto sono assolutamente positive, poi la candidata a sindaco Pia Perricci, Filippo Bagioni, grazie a tutti per aver dimostrato anche questa mattina il vostro affetto. Vi spesano, tre punti per sperare, ieri sera posticipo su Sky contro la blasonata, ormai non la chiamo più corazzata perché i tempi che furono sono andati, appartengono al passato remoto, nemmeno al passato prossimo, la blasonata Perugia viene al Benelli e perde grazie al gol di Neri che permette alla squadra di Stellone di sconfiggere gli Umbri, continuare a correre nel rush salvezza, finalmente interrotta la serie negativa, il mister schiera un attaccante in più rispetto al match di Rimini e ieri c'è stato anche l'omaggio a Costantino Borneo, detto Tino che ci ha lasciato l'altro ieri a soli 50 anni per una terribile malattia. La difesa non ha sbagliato nulla, Molina ha sfiorato un autogol, poi esce tra gli applausi, Rossetti rimedia due gialli in un tempo solo, Di Paola corre su e giù come un ossesso, come Pucciarelli. Per Carlson una prova generosa, quindi quasi tutti sufficienti se sfogliamo i voti di Emanuele Loccarini alla squadra di Stellone che comunque si prende al suo debutto casalingo dopo la sconfitta di Rimini in un bel 7, piace il modo in cui la sua vista aggredisce l'avversario infischiandone del periodo no recente, speriamo bene. Adesso Sestri Levante e Juventus Next Gen per cercare di compiere un'impresa anche perché i risultati delle altre concorrenti hanno inchiodato la Vis al terz'ultimo posto in primi Sancona che resta a galla dopo aver superato 3-1 il Sestri Levante. Diamo un'occhiata alla classifica, lo vediamo, la Vis Pesaro è terz'ultima a 36 punti, questa sera la Re Canatese affronta il Cesena già matematicamente in serie B, tra l'altro in Romagna, non penso che i bianconeri abbiano voglia di biscotti, per cui sarà decisivo l'impegno a Sestri domenica prossima, lo vedete, Sestri Levante e Vis Pesaro in orario ancora da definire. Veniamo alla serie D invece, può respirare il Fano, sconfitto al Mancini il Roma City con una punizione di Gonzales al decimo minuto, una bella vittoria per i Granata che si insediano da soli al terz'ultimo posto per avere la possibilità di giocare i play-out. Grande la soddisfazione del presidente Guida, abbiamo raccolto 10 punti in 8 partite, un bel trend positivo, ho visto Cattiveria nel recuperare palloni e nel prendersi i 3 punti, è proprio quello che chiedevo. Il saluto della squadra ai tifosi Granata rappresenta anche la soddisfazione da parte della tifoseria per la prova della propria squadra, una vittoria che dà fiducia per la lotta Salvezza. Salvezza che comunque ancora è matematicamente da prendere invece per il Fossombrone che nel derby contro l'Atletico Ascoli prende un punto, un 1-1 che pone i Biancazzurri a due punti sulla zona a rischio. Mister Fucili parla ancora di arbitri, pesano le decisioni del fischietto, potevano starci due gol in più, non siamo stati purtroppo fortunati. Diamo anche qua un'occhiata alla classifica della Serie D, come vedete il Fano è in zona play-out a 29 punti e domenica prossima andrà a Sora, la squadra laziale ne ha 37, così come il Fossombrone che invece la prossima settimana andrà ad affrontare gli avversari che hanno perso ieri a Fano, ovvero il Roma City che come vedete è in una posizione migliore di classifica. Chiudiamo con la VL, la VL che sabato sera battendo Pistoia si porta a soli due punti dal Treviso, Treviso ieri che è caduta in casa contro l'Armani Milano, ora siamo a solo due punti, Tortona, Cremona, Venezia, le ultime tappe per la Carpegna Prosciutto e potete leggere l'intervista che Mirko Faccenda ha effettuato a Mazzola redivivo in questa finale di stagione dopo mesi molto deludenti, finalmente con il cambio allenatore è tornato ad apportare quel aiuto, quell'assistenza decisiva per le sorti del team bianco-rosso. La Tortona appunto nel prossimo appuntamento il 21 aprile. Era questa l'ultima notizia presa dai quotidiani, andiamo intanto a vedere il palinsesto della nostra emittente per questa sera, si comincia per oggi con La Natura della Cultura, il magazine del Comune di Pesaro dedicato all'anno della capitale, alle 8, poi all'1 e alle 8 di questa sera con il riassunto settimanale sabato e domenica. Il prime time del lunedì è come sempre dedicato alla trasmissione di Antonio Astuti, Check Up Obiettivo Salute, fornita in collaborazione dal Medical Center Fisioradi. L'ospite di questa sera è Alion Sciarca, fisioterapista specializzato in terapia manuale che ci racconterà di come curare al meglio la spalla, appuntamento alle 21.20 e poi nelle repliche che vedete in sovraimpressione. E questa sera non vi ho svelato il risultato, gli appassionati di palla ovale si potranno godere il match tra Pesaro Rugby e Rugby Batia 1981, alle ore 22, trasmissione integrale sul nostro canale 80. L'appuntamento con l'informazione come sempre questa sera in diretta alle 19.30, anche sulla nostra pagina Facebook, le repliche alle 20.30, 23.30 e mezzanotte e mezza. Era questa l'ultima notizia? No, 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 c'è anche amministrando l'anteprima domani ore 21.20, siamo ormai a poche settimane dalla tornata elettorale e domani sera i nostri giornalisti ci presentano il confronto tra l'assessore comunale Andrea Nobili del PD e Luca Pandolfi, esponente di Fratelli d'Italia. Era veramente l'ultima notizia, non mi resta che salutarvi, augurarvi una bellissima giornata con questa anticipazione di estate e come sempre mantenendovi davanti al televisore nei momenti liberi chiaramente per assistere alla programmazione di Rossini TV. Non cambiate canale!